Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Sindaco, come valuta quanto è emerso ieri a Palermo sulle terme a partire dall'acquisizione del compendio da parte di INAIL? Siamo assolutamente fermi, fermi a quello che ci eravamo detti già da diversi mesi. Nessuna novità rilevante. Si continua a parlare di questa interlocuzione con INAIL. In realtà io ho sentito INAIL solo qualche settimana fa e loro non avevano nulla da parte della regione siciliana. La novità può essere il fatto che stiano predisponendo un piano economico finanziario. E pur da dire che il professore Faraci aveva evidenziato la difficoltà nel fare questo e che quindi non era assolutamente semplice perché non si potevano mettere numeri a caso, così ha detto. E perciò sull'imminenza del deposito di questo PEF io dubito fortemente. Per il resto niente di nuovo, l'idea di mettere in sicurezza con la toletta di cui abbiamo sentito parlare già diversi mesi fa, l'idea di continuare o meglio a mio avviso di intavolare una trattativa con INAIL e poi l'idea di un bando. Però sulla base c'è tutto quello che ci eravamo detti ieri mattina, cioè le difficoltà, le riflessioni di un settore che deve essere completamente rivisto perché è stato chiesto da parte degli operatori e degli esperti di tutto, dalla riforma del settore alla riforma delle agevolazioni fiscali, alla riforma del canone cancessorio, alla creazione di un brand, alla creazione di un prodotto terme che non c'è, al puntare su una sanità di eccellenza, l'ha detto l'assessore Razza, che possa supportare il turismo termale sanitario. Mi sembra una strada molto, molto lunga, certamente non chiara. Ieri erano tutte proposte, io l'ho anche detto. Certamente eravamo lì per parlare del termalismo e questo è stato fatto, parliamone. Però da questo a pensare che ci siano delle cose concrete sulle terme e soprattutto sulle terme di Sciacca ce ne vuole veramente tanto. Secondo lei si potrebbero valutare, anche il Comune si potrebbe proporre soluzioni alternative? Si è parlato a volte nel passato della gestione di ramo d'azienda, della separazione, perché ci sono alcuni beni, pensiamo alle piscine, per i quali nel passato c'è stata attenzione da parte di operatori. Ma sicuramente è stato chiarito però anche questo ieri, che si parla di terme come terme della regione, la proprietà è regionale e quindi la strategia di sviluppo deve essere regionale. Ieri la cosa che si è detta a chiare lettere è che gli enti locali devono supportare predisponendo il territorio a far funzionare le terme, ma non si è assolutamente parlato di una prospettiva diversa. Si è pensato anche tra comuni, noi abbiamo, sembra strano, siamo dentro Ancot, per quanto con le terme chiuse è un discorso un po' così, io ho anche parlato col sindaco di Acireale, perché ancora vengono accumunati Acireale e Sciacca, nonostante la situazione sia veramente diversa, per provare anche a fare qualcosa che venga dal basso, da una rete del territorio, che non è secondo me soltanto la nostra città, il nostro comune, forse un'azione che ricomprenda il nostro territorio come parte della provincia, perché no l'intera provincia è un territorio che metta insieme le realtà termali. Però anche questo bisogna capire, perché se la regione è assolutamente sorda e chiusa nella sua idea, che onestamente non c'è, diventa veramente difficile. Io sono tornata, devo dire non mi aspettavo altro, però non c'è dubbio che io sia tornata veramente rammaticata. Tra l'altro è stato anche chiarito che il Presidente e il Governo regionale non intendono incontrare il territorio, non intendono avere un'interlocuzione con le associazioni che si occupano di terme, che hanno a cuore il futuro delle terme, perché ritiene il Presidente che prima la regione debba avere il progetto di sviluppo, che poi presenterà. Quindi non c'è la logica della sinergia e della collaborazione che abbiamo chiesto a gran voce. Sono soprattutto i tempi che la deludono e che certamente al momento non indicano una soluzione breve per le terme, non solo di quelle di Sciacca, ma anche di 10 Reali. No, no, non soltanto i tempi. Le cose che mi deludono sono due. Il Presidente dice che loro faranno il progetto di sviluppo che poi presenteranno alla città, al territorio e alle associazioni. Questa è una cosa che mi delude molto, perché noi abbiamo sempre detto che ci vuole una collaborazione per immaginare lo sviluppo. La strategia dello sviluppo delle terme non ci può essere calata dall'alto, ma abbiamo chiesto, e le associazioni lo hanno fatto in maniera molto, molto chiara, abbiamo chiesto di compartecipare alla ideazione della strategia. E questo non mi pare che sia intendimento della regione siciliana. E poi l'altra cosa è evidente, sono i tempi. Ma già ieri si parlava di un arco temporale, del Presidente diceva, di quattro anni per poter, quattro anni. Bisogna capire, bisogna capire cosa ne pensa il futuro Presidente della regione, che potrebbe non essere il Governatore Musumeci e quindi ci stiamo parlando addosso. Ecco, una forte sensazione di discorsi che rimangono tali. L'ultima domanda. Lei ha avuto anche un colloquio su altri temi con il Presidente. Sciacca, ricordiamo che è una città particolarmente danneggiata dall'alluvione e che continua a subire danni. No, non abbiamo parlato di altro, abbiamo avuto modo di salutarci. Io porto i miei saluti, ci siamo salutati poi alla fine, anche durante le pause di questo, cos'era un tavolo di lavoro, loro lo definiscono. Non abbiamo avuto modo di parlare di altro, non abbiamo avuto modo di parlare di tutte le criticità che noi abbiamo e sono moltissime perché adesso, a distanza di un po' di tempo dagli ultimi eventi disastrosi e dalle alluvioni, ancora noi stiamo aspettando e abbiamo una realtà che è sotto gli occhi di tutti e che è chiara, credo, perché noi l'abbiamo rappresentata in tutti i modi al Governo regionale, gli uffici hanno fatto le relazioni anche fotografiche, abbiamo spiegato qual è la realtà e quali sono anche le priorità. Ci sono alcuni interventi che sono prioritari. Il Comune sta facendo di tutto di più, anche con le risorse che non ha, ma sta facendo di tutto di più, ma non è sufficiente. Io questo l'ho detto alla prima ora, non è sufficiente, c'è bisogno di aiuto e in questo momento non sta arrivando nulla.